ah guardiamoci questi ultimi rigori va cremonese napoli e rigori va vediamo se almeno uno riescono a perderla con la cremonese sai gol quindi se sbaglia ora per napoli la squadra campioni ha vinciuto da rigori che l'aveva preso meret ha detto ma si facciamoci sto vidietto qua giusto per guffarli un pochettino e questo ci è rimasto la gara in campionato non si fermano così meno per restare in vita se sbaglia e avanti la cremonese ma che partita brutta ragazzi diamo simen gol e adesso la cremonese per andare avanti quanto mi sta sul cazzo simen raga mamma mia non lo posso non lo posso neanche guardare sembra bello figo bello figo quello che canta passa al tonno o non pago affitto veramente lo odio mi sta proprio sul cazzo mi sta così meno vediamo come gridano a buchi a buchi a fena gian sembra strano dirlo per vedere la sconfitta del napoli vediamo affena ma vabbè siamo quasi a mezzanotte questo lo sbaglia io già già me lo vedo già me lo vedo vediamo parte affena che rincorse stupide che fate mamma mia tiro gol la cremonese batte la cremonese batte il napoli a rigore non ci credo finalmente nascun fit questa piange ma ti rendi conto ma la gente che piange c'è gente che piange perché siete usciti dalla coppa italia ma voi vi rendete la mente vi rendete conto della mentalità di questa gente e piangono ora questa questo piange ma cosa volete fare il triplete ma guardate in cielo e baciate veramente il cielo che che vincete lo scudetto perché non ci sono altre squadre forti come voi perché è vero la squadra più forte il napoli ma siete usciti dalla coppa italia che cazzo piangete la cremonese la cremonese butta fuori il napoli scusate ragazzi non posso gridare certo domani se dovessi perdere io ai rigori piangerò io ma questi sono usciti dalla coppa italia c'era gente sui spalti che guarda 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 fregna ma come fregna non ci credo mamma mia se per puro caso dovesse succedere che non mi conosco detto cosa fai ti impicchi guarda questi vabbè cremonese una squadra che andrà in serie di si toglie questa soddisfazione almeno io quando perde il napoli sono contento lo sapete mi stanno abbastanza sui cugliona ci sono comunque gli applausi certo certo è giustissimo infatti però la tifosa che piangeva era imbarazzante la sicura era proprio imbarazzante mamma mia niente cremonese avanti chi cazzo è rimasto domani so che c'è se in un'altra finale dove inter sarà dai con la roma se la roma ha vinto col geno la coppa italia proprio una proprio una competizione brutta niente questo breve video per farvi vedere la sconfitta del napoli vi diciamo voglia di fare un video poca parola visto che c'era il napo guardate questi sono in 10 10 tifosi della cremonese torneranno a cremona per loro una grande soddisfazione io mi rificco gli occhiali e vi saluto a domani napoli merda sempre ricordatevelo sempre